Tornano le elezioni Salvemini da parte dell'Associazione di Bagno a Bari. In sede universitaria l'occasione è stata giusta per dar vita ad una tavola rotonda con riflessioni sull'Italia del passato e le relative eredità del presente. Nato a Molfetta, Salvemini è stato uno storico, politico e antifascista. Tra i presenti anche il professore Gaetano Quagliariello, già ministro e senatore. Salvemini era un meridionalista ed era federalista. Riteneva che il Sud avrebbe guadagnato da un'Italia federale non regionale piuttosto che da uno Stato accentrato. Però Salvemini fu anche un grande intellettuale europeo. Un intellettuale che ha attraversato l'epoca delle tirannie che comprese le parentele che c'erano tra i regimi fascisti e i regimi comunisti. Cosa penserebbe dell'Italia attuale Salvemini? Ecco il pensiero del professore. Su una cosa ci ammonirebbe, questo credo sia importante. Salvemini aveva in mente un'idea di sviluppo e di redenzione di queste terre che amava enormemente perché appunto lui era di Molfetta ed è stato a tutto tondo un pugliese e riteneva che appunto il Sud avesse bisogno di dignità, avesse bisogno di creare una società civile e per questo di sviluppo della cosiddetta classe media, del ceto medio. Grazie.